Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Luna e questo è Beauty Corner. Scusate per l'assenza di questo periodo sia sul canale che sul mio Instagram, ma purtroppo sono nel periodo degli esami, quindi all'università, e quindi sono un pochettino impegnata. Più il saggio di danza, quindi tutte le prove in teatro e nella scuola di danza, appunto, mi hanno portato via un pochino di tempo. Quindi in queste settimane riuscirò a pubblicare solamente un video a settimana. Scusate se sentite dei rumori molesti in sottofondo, ma è caldissimo, ho la luce davanti, quindi devo tenere le finestre aperte. Però direi che possiamo subito cominciare e cominciamo con questo video haul. Nell'ultimo periodo ho raccolto un po' di acquistini che ho fatto qua e là, e più o meno nell'ultimo mese, sì, durante il mese di maggio, primi di giugno, non ho avuto mai modo e tempo per fare questo video, oggi ho deciso di far vedere più o meno tutti gli acquisti che ho fatto e le cose che ho ricevuto. Non sono moltissime cose, però ci tenevo a farvele vedere magari per qualche spunto, per qualche acquisto, o se magari vi serve qualcosa, potete prendere spunto. Quindi cominciamo subito. Da cosa vogliamo cominciare? Il make-up ve lo tengo per dopo. Comincerei con la hair care. Ho fatto degli acquisti hair care, i quali ho già utilizzato, per cui posso anche darvi un parere. Cominciamo subito con lo shampoo. Ho acquistato questo shampoo di ultra dolce, al tè verde e 5 piante, eccolo qua, con degli estratti naturali, è uno shampoo con estratti naturali, non ha ingredienti dannosi al suo interno, uguali siliconi, paraveni o altre schifezze varie. È uno shampoo che pulisce molto bene il capello, va molto bene anche a detergere, quindi a eliminare tutto il sebo, le cose che comunque produciamo nell'arco dei giorni, e soprattutto lascia i capelli puliti per diversi giorni. Ha un odore di erbe e piante, quindi se vi può piacere, io ve lo consiglio assolutamente, perché è un buonissimo shampoo. Poi, per quanto riguarda il balsamo, ho acquistato sempre dell'ultra dolce, questo qua ha l'olio di cocco e burro di cacao, liscia, nutria e districa, quindi è un balsamo per capelli lisci, e questo è davvero fantastico, ragazzi, ve lo consiglio assolutamente, in quanto va bene a lisciare il capello e anche a distrigarlo, e dà un effetto molto luminoso sui capelli, che mantengono questa piega a lungo. Altro acquisto che ho fatto sempre in ambito hair care capelli, è questa maschera qua di Fructis, ed è la Air Food Banana Maschera Nutriente, della quale ho sentito tantissimo parlare e che ho voluto acquistare. Come vedete è per il 98% di origine naturale, ha un profumo buonissimo di banana, tanto che c'è scritto da non ingerire questa maschera, perché appunto non è fatta per essere mangiata, ma per essere applicata sui capelli. Come vedete è molto densa, eccola qua, ha un profumo buonissimo di banana, come ve l'ho detto, può essere utilizzata in tre modi, come maschera, dopo aver lavato i capelli, quindi tenuta in posa per tre minuti, come balsamo, oppure come trattamento da applicare un pochettino sulle punte e sulle lunghezze quando abbiamo i capelli asciutti. L'ho utilizzata ieri, questo è il risultato, ho lasciato i capelli asciugare all'aria, e devo dire che mi è piaciuta molto, ha idratato, ha nutrito bene i capelli, e le ha lasciate anche luminose, non le ha pesantite per niente, quindi per adesso mi è piaciuta molto, ma sicuramente vi farò una recensione più approfondita su Instagram, prossimamente uni con gli altri utilizzi. Un'altra cosa che ho acquistato sempre per i capelli, è questa maschera qua, di Fructis, al Coconut Oil Super Mask, si divide in due step, abbiamo il primo step, che è la maschera nutritiva, il secondo step è un trattamento protettivo, che si applica dopo lo step 1, è con olio di cocco e senza parapelli, l'ho trovata al Tigotà, e ho deciso di acquistarla, vi lascio comunque tutti i prezzi dei prodotti qua sotto, perché in questo preciso momento non me li ricordo, quindi andrò a cercarli, e vi lascerò scritto qua sotto, nell'info box. Poi, abbiamo finito con le cose della hair care, sì, passiamo invece alla skin care, e mi è stato inviato dal sito, al femminile provato da voi, che è una piattaforma, nel quale voi potete candidarvi, per ricevere come tester, da provare, dei prodotti, che loro vindiano a casa, voi avete un pochino di tempo, per testarli, e poi dovrete scrivere, una recensione, di questi prodotti, a me questa volta, mi hanno inviato, questa crema di Vichy, Aqualia Thermal, che è una crema reidratante, leggera, del 97% di origine naturale, ed eccola qua, è una crema base d'acqua, come vedete, in vetro azzurro, ed è una crema, molto, molto leggera, che si assolve subito, sulla pelle, e mi piace molto. Poi, sempre per la skin care, parliamo di solari, ho acquistato, quest'anno come solare, questo qua, della Biolis, Natur Sun, ed è un, appunto, una crema solare, o il latte solare, che non ha coloranti sintetici, non ha parapeni, non ha sless, non è di origine animale, e ha un fattore di protezione, di 30, protegge da UVA, e da UVB, perciò, ho deciso di, di acquistarlo, e l'ho utilizzato, quelle tre volte, che sono riuscita ad andare al mare, finora, e mi ci sono trovata, molto bene, perché si assorbe subito, sulla pelle, ha un buon odore, pur essendo di origine naturale, non ha, quei classici odori, di solari, ma sa appunto, di aloe vera, perché al suo interno, abbiamo l'aloe vera, quindi, se cercate, questo costa intorno ai 5 euro, l'ho preso al ticotà, se cercate un solare bio e buono, con un buon fattore di protezione, ve lo consiglio assolutamente, sempre per quanto riguarda la skin care, ma andiamo più specificatamente, su un trattamento per la cellulite, ho deciso di acquistare quest'anno, la Leocrema Cell Active Intensive Cellulite Gel, questa è una crema che sto utilizzando, da qualche settimana, è un gel intensivo anti cellulite, che dovrebbe avere un effetto in 4 settimane, io lo sto utilizzando da 3 settimane, posso assicurarvi che il suo effetto lo fa, ragazze, comunque, quello che ci tengo a precisare, è che per sconfiggere la cellulite, non basta solamente un gel intensivo per la cellulite, ma vanno fatti degli allenamenti specifici, degli esercizi specifici, che vanno a muovere, e a favorire la circolazione del sangue, va fatta una buona dieta, quindi senza mangiare schifezze, niente sale eccessivo, quindi salare il giusto, e soprattutto avere tanta tanta acqua, e nonostante, spesso, nonostante questi accorgimenti, non basta, se si ha una predisposizione fisica alla cellulite, purtroppo, non si possono fare dei miracoli, comunque questo è un gel intensivo, che aiuta a levigare la pelle, a togliere quell'effetto di buccia d'arancia, va applicato dopo che si fa la doccia, facendo dei movimenti circolari sulla zona interessata, dal basso verso l'alto, se lo applichiamo all'esterno coscia, per favorire la circolazione del sangue, e si massaggia fino a completo assorbimento, è un gel che si assorbe subito, e mi ci trovo molto bene, questo costa intorno ai 6 euro, se non erro, e l'ho trovato al ticotà. Possiamo passare alla categoria make up, allora, per quanto riguarda il make up, sono uscite diverse novità, Allora, le prime che vi mostro sono le novità Navla, che ho deciso di acquistare, ho acquistato il loro correttore, della linea Gloss Up, io l'ho preso nella colorazione Golden Beige, perché lo vorrei utilizzare d'estate, cioè adesso, quando mi abbronzerò un pochettino di più, infatti è molto scuro, ma non ve ne parlo troppo, perché voglio farvi un post recensione a parte, e ovviamente ho anche acquistato la loro cipria traslucida in polvere libera, ed è sempre la Gloss Up Baking Accenting Powder, questa ha 30 grammi al suo interno, 18 mesi di scadenza, il correttore mi sembra costi 15,90 euro, la cifra sui 18, ma vi lascio sempre tutti i link nell'info box, quindi trovate tutto lì. Sempre per quanto riguarda il make up, a inizio mese, è arrivata finalmente in Italia, Anastasia Beverly Hills, e per ora ho deciso di fare soltanto due acquisti, ma credo che presto ne farò altri, perché mi sono innamorata del brand. Tra l'altro abbiamo già provato questi prodotti in un video, ve lo lascio qua sopra nelle schede, qualora siate curiosi e vogliate andare a vedere cosa ho combinato. Ho acquistato la palette Soft Glam, questa costa mi sembra 49 euro, eccola qua, in tutto il suo splendore. E al suo interno trovate questi colori, ma anche di questa non ve ne parlo nel dettaglio, perché tanto già ho fatto il video. Oltre a questa ho acquistato anche un rossetto, il Matte Lipstick, che io credevo fosse una tonalità più calda e più adatta per l'estate, invece ho completamente toppato la tonalità, ma il rossetto mi piace molto. Ho preso nella tonalità Dread, costa 22 euro circa questo rossetto. Come vedete è questa tonalità marrone, grigiastra, fredda, più adatta assolutamente per l'inverno. Ok, poi, sempre per quanto riguarda il make-up, finalmente sono riuscita a trovare questi rossetti liquidi di Maybelline, sono i Matte Ink Super Stay, in realtà ne ho acquistati tre, il terzo ora non lo trovo, evidentemente perché mi è rimasto nella corsa del saggio. Comunque ho acquistato questi due, che sono la colorazione 15 Lover e 70 Amazonian, quindi sono un bel malva e un marroncino caldo. L'altro che ho acquistato dovrebbe essere il numero 50, se non sbaglio voglia, cioè il rosso, quello più scuro. Non sto a parlarvi troppo nel dettaglio, perché anche di questo voglio farvi un video a parte apposito, in cui magari le proviamo insieme. Poi, sempre per quanto riguarda il make-up, ho un altro sito che si chiama My Beauty Advisor, che come il sito di Al Femminile, voi vi potete candidare come tester, e se venite scelti, vi inviano a casa dei prodotti che voi potete provare, e testare, e dare la vostra opinione. Quindi, due settimane fa, sono stata scelta per testare questi due rossetti liquidi di Revlon, e sono i Revlon Color Stay Overtime 16 ore, e sono, appunto, come vedete, questi rossetti liquidi. Io ce l'ho in due colorazioni, la numero 40 e la numero 80. La numero 40 è questa qua, rossa, e la numero 80 è questa qua, più perlata. Vi faccio due swatch, ve li faccio vedere. E questi rossetti liquidi hanno una texture molto particolare, perché, eccoli qua, il viola e il rosso. Il viola è perlato al suo interno, il rosso invece è completamente opaco quando si asciuga. Se voi applicate solo la parte con il colore, diventa opaco, ma è un opaco lucido, e rimane appiccicoso sulle labbra, però diventa assolutamente non transfer. È una cosa molto particolare, e poi, se voi volete, potete andare ad applicare sopra il top coat che trovate dall'altra parte, che è, appunto, il lip gloss che potete applicare sopra per andare ad idratare le vostre labbra. Posso assicurarvi che durano tantissimo, non so se durano 16 ore, perché non lo ho testato per 16 ore, però sono molto valide. Il prezzo preciso di queste non lo so in questo preciso momento. Se lo trovo, comunque, ve lo lascio qua sotto. Con il make-up, credo che abbiamo finito, possiamo passare agli acquisti fashion, quindi vestiti e qualche accessorio, scarpe che ho acquistato nell'ultimo periodo. Partiamo subito, con cosa partiamo? Partiamo con i vestiti. Sono passata da chiavi, il chiave è uno di quei negozi che quando voi lo vedete da fuori, non gli date molta fevocia, perché dite, non troverò nulla qui. Invece, sono entrata e mi sono dovuta ricredere, perché ho trovato due cose che mi hanno attirato e ho deciso di acquistarle. Allora, ho acquistato questa canottierina, vogliamo dirlo così, questa magliettina blusa di color bianco, vedete, davanti a queste, questo pizzo, molto carino, secondo me. L'ho preso nella taglia M, è in cotone, qui davanti sembra una stoffa simile a Lino, ma credo non sia Lino. e l'ho parato 12 euro, è molto carino, ragazze, non mi ricordo se è presente in altre colorazioni, però secondo me è molto carino per quest'estate, soprattutto con una bronzatura quando riusciremo ad averla. Poi, sempre la chiavi, l'altro acquisto che ho fatto, è questo vestitino qua, questo vestito l'ho visto quando stavo andando alla cassa nel reparto fino ai 18 anni, 9-18 anni. Ho visto questo vestitino che stava in sconto, come vedete, sempre bianco, e là dietro è fatto in questo modo, spero riusciate a vederlo, quindi vedete, risulta scollato, e dietro è tutto ricamato, e anche qua davanti ha questo ricamo molto carino sul petto, spero lo riusciate a vedere. è a stile intero perché si stringe qua sulla vita e la conna è più larga. L'ho pagato con il 50% di sconto, quindi il prezzo intero erano 15 euro, l'ho pagato circa 7 euro, e questo l'ho preso in una taglia S che era adatto per le persone alti fino a 1,64 m, quindi io ho presente, e niente, l'ho acquistato. poi sono passata da Bershka e ho fatto due piccoli acquisti ma mini mini, ho preso questa t-shirt qua, semplicissima, in questa colorazione rosa con le scritte, queste scritte davanti, voilà, 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 secondo me è sempre molto carina per l'estate, per una cosa semplice, anche con gli shorts, sono carini, e niente, questa l'ho pagata, 4,99 euro, ho preso una M, è molto carina. Poi, sempre da Bershka, ho preso, ho preso questa bandana che non ho nemmeno ancora aperto, questi acquisti ormai le ho fatti un mese fa, ed è appunto, come vedete, una bandana, una bandana, una, come si dice, una fascia per i capelli in full hair che può essere utilizzato in diversi modi e io l'ho preso pensandolo appunto per utilizzarlo con i capelli, ce ne sono di tantissime colorazioni e l'ho pagato 5,99 euro se può servirvi come linea di massima. Poi sono passata da Stradivarius, è un acquisto che ho fatto a Stradivarius purtroppo è a lavare perché è stato, l'ho utilizzato una sera per necessità ed è una t-shirt come quella precedente che vi ho fatto vedere solo che è nera, uguale, identica a nera e l'ho pagata sempre intorno ai 5 euro e da Stradivarius poi ho preso questi orecchini vedete dorati e rossi in tessuto e l'ho pagati 7,99 euro secondo me molto carini sempre per l'estate con un bel rossetto rosso la morte sua. Ok, poi altro acquistico fatto sul sito di Pinky c'era due o tre settimane fa c'era una promozione che consisteva nel fatto che se voi acquistate la mattina dalle 6 alle 10 di mattina avevate o il 20 o il 30% di sconto sui capi che andavate ad acquistare ovviamente c'erano delle eccezioni e quindi volevo troppo un paio di shorts neri e un vestito lungo e quindi ho approfittato e ho acquistato questi due capi adesso ve li faccio vedere facciamo con il jeans scuro eccolo qua è un jeans nero semplicissimo in denim appunto che mi serviva perché non avevo per l'estate un jeans del genere si possono arrotolare le lunghezze dei pantaloni insomma sulla gamba quindi voi riuscite ad accorciarlo ad accorciarlo quanto volete ma io li tengo praticamente tutti allungati perché non mi piace molto far vedere il sedere in giro l'ho preso in una taglia 42 perché non è elasticizzato e lo costa a prezzo pieno 17,99 euro e ho i prezzi pieni appunto non scontati perché ora non sono più scontati sul sito poi questa è bellissimo penso che ci vedrete non so quante foto su instagram ho acquistato questo vestito lungo eccolo qua è un vestito lungo bianco con questi fiori sul verde rosa giallo e dietro come vedete è tutto scollato vedete qua è aperto e va giù lungo a questa gonna con uno spacco questo vestito quando l'ho visto me ne sono innamorata avendoci questo sconto deciso di acquistarlo questo l'ho preso in una taglia S e costa 29,99 euro ce ne sono di diverse altre colorazioni sul sito vi lascio sempre il link qua sotto per dare un'occhiata ok poi siamo addirittura ad arrivo ragazzi ci siamo quasi danzalando ho fatto un acquisto velocissimo e sono un paio di occhiali che vi ho già fatto vedere su instagram però del quale non mi ricordo il marchio quindi andrò a vedere negli ordini e ve lo lascerò qua sotto e sono questi occhiali rasole qua eccoli qua li faccio vedere indossati e li ho pagati 17,99 euro sono molto carini in oro e nero molto carini per l'estate soprattutto perché sono specchiati e infine ho acquistato un paio di scarpe allora ero partita piccolo aneddoto ero partita per acquistare le Birkestock però sappiamo tutte che le Birkestock costano sugli 80 90 euro soprattutto il modello che volevo io che era il sandalo quello con l'infradito ma col cinturino dietro tipo a sandalo insomma no allora sono passata prima di arrivare nel punto in cui vendevano le Birkestock sono passata su un altro negozio che vende appunto calzature e c'era questa marca qua Grunland che praticamente fa i dupe se così vogliamo dire delle delle Birkestock e con la differenza che queste costano 33,90 euro e quindi ho deciso di dare una possibilità e di acquistarle devo dire che sono fatte molto bene ho acquistato quindi queste qua non le ho ancora indossate solo provate quindi apposta le tocco sotto vedete sono nuovissime le ho presi in un 39 in questo colorazione perla perché non c'erano più né nere né color kaki né marroni quindi le ho prese in questa colorazione perla scusate vedete all'infradito e sotto sono di sughero e credo siano una buona alternativa alle Birkestock lo so che le Birkestock sono le Birkestock però ho deciso di acquistare quest'altre e niente ragazzi questo era tutto fatemi sapere se avete acquistato qualcosa di queste cose che vi ho fatto vedere fatemi sapere se siete interessati a vedere qualche outfit magari su Instagram ah e tra l'altro andatemi a seguire su Instagram mi chiamo ilbeautycorner vi lascio tutto qua sotto e niente mi raccomando iscrivetevi al canale lasciatevi un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao